Purtroppo anche con l'ultimo terremoto avvenuto tra la Turchia e la Siria, con migliaia di morti, assistiamo alla messa a nudo, direi proprio, dei difetti, degli errori che facciamo nel costruire gli edifici. In questo caso, al di là del fatto che ovviamente dal punto di vista sismico si tratta di un terremoto abbastanza forte, discosse continue, un terremoto che ha causato uno spostamento del terreno di oltre tre metri, parlando di edifici in cemento armato appunto, ho notato almeno due o tre elementi che sono purtroppo sempre quelli che si ripetono quando vediamo degli edifici pesantemente danneggiati o addirittura crollati. Uno di questi è la mancanza di staffe e di armature sufficienti nei nodi travo e pilastro, dove facilmente avviene proprio il distacco, il crollo o lo sbriciolamento proprio del calcestruzzo e una specie di meccanismo di colasso che fa sì che poi alla fine l'intera struttura vada a finire a schiacciarsi su se stessa e quindi ad avere praticamente tanti solai perfettamente sovrapposti tra di loro con i nodi che non hanno assolutamente retto. Un altro elemento che si vede ancora chiaramente nelle immagini che iniziano a girare già in rete sono le armature e la poca aderenza tra il ferro e il calcestruzzo nei solai e nelle strutture in cemento armato. I ferri si sfilano, quindi si vedono armature di pezzi interi di solaio completamente staccate, pulite, quindi rispetto al calcestruzzo. Vuol dire poca aderenza tra i due materiali che devono lavorare insieme e questo appunto è dovuto spesso a degli errori anche nella progettazione degli edifici.